E schiera a tutti da Moxie e ben ritrovati qui con noi su HMC Magic Masters. Oggi siamo qui per fare quattro chiacchiere insieme, ne avevo proprio bisogno. Innanzitutto buon 2021 perché è il primo video che faccio da sola sul canale, quindi spero che l'abbiate iniziato bene e spero per voi che continui veramente ancora ancora meglio. E dato che quest'anno sono sette anni della mia carriera da giocatrice di Magic, voglio fare con voi il punto della situazione sul che cosa questo gioco mi ha portato come persona e come ragazza. Vi anticipo che sarà un video in cui mi sentirete blaterare per parecchi minuti, per cui vi consiglio una bella dose di caffè prima. Cercherò di tirar fuori tutte le cose più personali che riesco, quindi innanzitutto vi chiederei 40 like per il supporto, ma soprattutto mi piacerebbe tantissimo che voi scriveste nei commenti se anche voi avete delle esperienze simili alle mie, se Magic vi ha aiutato in certi modi. Insomma condividiamo quello che ci ha fatto provare questo grandissimo gioco e mondo. La prima volta che mi sono avvicinata a questo mondo era il 2014, quindi quest'anno sono sette anni. Per alcuni di voi sarà veramente pochissimo tempo, per me è un tempo enorme. Sinceramente non avrei mai mai immaginato che avrei portato così tanto avanti questa passione. Mi sono avvicinata al gioco semplicemente perché Omega e alcuni nostri amici dell'epoca ci giocavano, quindi io per non rimanere tagliata fuori ho deciso che quantomeno avrei voluto capire che cosa stavano facendo. A quel tempo non ero una giovane Moxie proprio per niente perché avevo 93, 2003, 2013, 2004, sì 21 anni. Alcuni di voi so che hanno iniziato a giocare molto da più piccoli, Omega in primis. Quindi diciamo che la mia passione è nata che io già ero adulta. Parleremo poi più avanti nel video del perché non si è nata prima rispetto a tanti di voi. Vi dicevo quindi che ho iniziato a giocare proprio per l'esigenza di unirmi al mio gruppo. Fortuna ha voluto che io mi appassionassi veramente tanto a questo gioco. Mi ricordo ancora addirittura il primo mazzo che ho comprato. Era un intro pack di M15 ed era quello con il fito titano. Il secondo mazzo che ho comprato dopo ben poco perché mi ero resa conto che il primo era un po' inefficace fu quello sempre di M15 con il drago accaparratore che forse era ancora meno efficace di quello del fito titano. Infatti poi convinsi subito Omega e mio cognato a montarmi un mazzo leggermente più intelligente, più strutturato, più giocabile perché altrimenti sì, potevo giocare con gli altri ma non ero mai al passo degli altri. Ritengo che una delle cose migliori di Magic è che abbia unito me e Omega ancora di più di prima perché abbiamo trovato questa nostra passione in comune che poi ci ha portato a fare tante altre cose tra cui questo, cioè YouTube, e anche a conoscere persone ma lì ne parliamo dopo. Ritengo che Magic sia stata una delle scoperte migliori degli ultimi dieci anni della mia vita in quanto mi ha insegnato tante tante cose, in primis proprio il giocare a Magic perché non avevo mai fatto niente di simile, neanche da bambina. L'unico gioco di carte che avevamo all'epoca era quello dei Pokémon ma non lo trattavamo come gioco di carte, lo trattavamo più come figurine. Quella ce l'ho, quella mi manca, le scambiavamo così. Non abbiamo mai effettivamente preso in mano il libretto del regolamento e non ci siamo mai messi lì a imparare a giocare. Quindi già entrare in questo mondo per me è stata una cosa nuova. E poi l'aprire il canale YouTube ha ampliato tutte queste conoscenze perché logicamente io prima non sapevo montare un video. E sempre tramite YouTube abbiamo trovato tante tante persone con cui alcune siamo in contatto anche privatamente e con gli altri invece scambiamo un sacco di commenti, di messaggi sotto i video ed è sempre bello trovare gente che ne sa, che si interessa e che vuole scambiare opinioni. Per questo vi chiedo di scriverle qua sotto nei commenti perché mi piace vedere l'interazione tra la gente. Per cui proprio questa cosa che abbiamo creato insieme, io e Omega, è molto molto forte e ci diverte proprio giocare. È una cosa che ci tiene davvero uniti. Ci sono dei pomeriggi, soprattutto magari le domeniche. Tiriamo fuori gli album, imbustiamo le carte, le togliamo, le spostiamo, insomma creiamo mazzi. Ma questo tipo di unione non è l'unica che ho stretto grazie a Magic. Dovete sapere che qualche anno dopo il mio inizio è stato un periodo un po' così. Era un momento in cui non riuscivo neanche più a giocare a Magic perché le persone con cui giocavo, meh, non ne andava più e quindi boh. E' a quel punto che abbiamo fatto, secondo me, una delle scelte più importanti e meglio riuscite della nostra vita. Recarci al nostro negozio ormai di fiducia e incontrare tutti i nostri amici. Sembrerà davvero la sviolinata più grande del secolo, anche perché so benissimo che queste persone vedranno questo video, quindi la 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 la. Ma no, è vero, è così. Parlo di amici al plurale maschile perché effettivamente è quello che sono, ovvero quando siamo arrivati l'ambiente era prettamente maschile. Credo che io forse fossi la seconda ragazza che andava a giocare in quel posto e all'inizio l'altra ragazza, che poi è diventata una delle mie più care amiche, neanche c'era, è ritornata poi dopo qualche tempo, quindi... All'inizio non è stato facile, vi dico la verità, perché siamo arrivati in un posto dove nessuno ci conosceva, tra di loro invece erano già tutti amici, si trovavano già tutte le settimane, se non tutti i giorni, da anni probabilmente. Io non ero neanche del posto, per cui non avevo mai neanche visto queste persone. Devo dire che sono sempre stati tutti super super aperti mentalmente, nessuno ha fatto il discorso ah no, le donne qui non le vogliamo, nessuno mi ha guardata come se fossi un troll, e anzi hanno subito tutti cercato di unirci al gruppo, il che secondo me è stata la cosa più bella che potessero fare, perché alla fine Magic fa questo. Noi siamo arrivati lì, io sono arrivata lì con lo scopo di passare un sabato pomeriggio Adokara Magic, e sono uscita dal negozio quella sera con dei legami stretti con delle persone nuove, e ditemi voi se questa non è una cosa bellissima. Legami che oltretutto durano ancora fino adesso, nonostante questo anno particolare, un po' diverso dal solito, dove non ci siamo visti per forza di cose, non sento che questi legami si siano affievoliti, perché non è così, e so che anche dall'altra parte è così, per cui se mi chiedete, ma è meglio giocare online o andare in un negozio anche se non conosco nessuno? Io vi risponderò sempre, andate in un negozio e giocate con persone, perché la parte migliore di Magic non è avere più mazzi, le carte più belle, le carte pimp, oddio, quello non è male, ma trovare degli amici con cui fare queste cose, trovare una persona come nel caso del mio compagno, che ha pazienza di insegnare a qualcuno ormai grande, cose che lui aveva già assimilato e ha imparato ai tempi che furono, e per te è una cosa nuova e te la fa scoprire, è una cosa bellissima ragazzi, ma come vi ho detto io ero l'unica ragazza a quel tempo, ed è stato difficile all'inizio sì, perché comunque ragazzi e ragazzi, ragazze e ragazze si capiscono meglio, non stiamo tanto a girarci intorno, ormai io sono una del gruppo, ora come ora nel nostro gruppo ci sono ben tre ragazze, con me quattro, ma è una cosa davvero strana, perché la community di Magic come saprete è prettamente maschile, ma non capisco per quale motivo, io credo ci sia questa sorta di pregiudizio, passatemi il termine, non è proprio un pregiudizio, però le bambine giocano con le barbie, i maschietti giocano con le macchinine, e poi crescendo le ragazzine comprano le borsette, e i ragazzini comprano le carte di Magic, perché? Credo che Magic sia un passatempo universale e unisex, credo che chiunque di qualunque etnia, genere, orientamento sessuale, religione, possa giocare a Magic, il problema è il punto focale, che è anche lo stesso punto che vi dicevo prima, ovvero io ho iniziato tardi a giocare a Magic, e che le ragazze non sanno che esiste, lo so è uno shock, ma credetemi perché io le prime volte che ho visto Omega giocare, dicevo che è sta cosa? L'unico gioco di carte che conoscevo io, era uno, o al massimo scala 40, quando mi è stato detto, ma guarda che anche le carte dei Pokémon erano un gioco di carte, io ho risposto, ah perché non erano figurine? Non so se il mio gruppo di amici di quando ero bambina non se le filava di striscio, o se è proprio una cosa femminile, ma io vi giuro che il 99% delle donne non sa che esiste Magic, forse perché come ho detto nel video dei pregiudizi sugli giocatori di Magic, uno vede un negozio di carte e dice, ah sti sfigati, e quindi non entra, ma è un peccato perché poi alla fine maschi o femmine che siamo, gli interessi sono sempre quelli, no no, il mare piace ai maschi e alle femmine, la montagna anche, la fantascienza anche, perché un gioco di carte non può piacere anche alle ragazze? Mi pare ingiusto che le uniche donne che voi possiate trovare nell'ambito giochi di carte, videogiochi, fumetti, cose, siano le cosplayer, perché ok, le cosplayer magari giocano anche a Magic, si interessano anche di queste cose, ma se uno volesse giocare a Magic senza fare la cosplayer, dobbiamo fare un sacco di campagna pubblicitaria su questa cosa, insomma, è dal 93 che Magic scrive sulle carte he or she, quindi concludendo questo discorso, che forse una conclusione neanche ce l'ha, Magic mi ha salvata, assolutamente sì, mi ha salvata da momenti bui, mi ha salvata da momenti di solitudine, mi ha fatta crescere perché mi ha fatto imparare a fare cose nuove, sia inerenti proprio al gioco stesso che all'ambito, mi ha fatto entrare in un mondo di persone sane, mi ha fatto entrare in un mondo di persone che mi vogliono bene, mi ha fatto stringere legami ancora più forti con quelle che già avevo il mio figlio, per cui se Moxie tornasse indietro a sette anni fa inizierebbe ancora a giocare a Magic? Sì, ma forse non con il mazzo del fito titano. E questo è tutto per oggi ragazzi, io spero che il video un po' particolare, un po' diverso dal solito vi sia piaciuto, se è così fatecelo sapere lasciandoci un bel like, e mi raccomando ci tengo davvero tantissimo un bel commento qui sotto, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e abilitate le notifiche, e passate anche a trovarci sulla nostra pagina Facebook, dove se volete potrete richiederci uno dei video non censurati previa donazione da almeno 10€, trovate tutti i link che vi servono qua sotto in descrizione. Detto questo vi mando un grosso bacio, ciao dalla vostra Moxie, alla prossima!